L'ho preso. Adesso devo essere sicura che l'ho preso. Penso di sì. Sì, morto. E uno è morto. Andiamo, avanti. Ma tu guarda, che devo fare? Per salvar ste povere rapine. Eccolo un altro, va. Madonna, quanti ce ne stanno, ragazzi. Ho preso anche questo. Preso. E siamo a quota 2. Siamo a quota 2. Sì. Andiamo avanti. Ma lo so perso. Entra, voleva entrare proprio dentro. Mi devo andare a mettere la tuta perché così non sto tranquilla. Oh, ma guarda, hanno preso di mira questa qui, questa zona qui. Guardalo. Guardalo. Vediamo un po' se l'ho preso. No, non l'ho preso. Eccolo va. Eccolo va. Eccolo va. Vediamo se qua c'è. Se l'ho preso. No, non l'ho preso. Non l'ho preso. Innaccia. Eccolo va sta qua. Innaccia. Non l'ho preso neanche adesso. Però lui l'ha presa la sua preda. Uffa. Uffa. Eccolo. No, ti prego. No, ti prego. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ti prego, ti prego. Non lo prendere. Dai. Preso. 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 E dai, eh. E dai, eh. Eccolo. Non cosa si vede. Non neanche ritrovo. Dov'è? Qua. Eccolo. Non ha le zampette gialle. Questo è proprio un calabrone. Continuiamo. Eccolo la. Mannaggia. Mi sono distratta un attimo. Eccolo va. Ecco. L'ho preso? Sì. L'ho preso. L'ho preso. L'ho preso. L'ho preso. E dai, eh. E siamo a quota quattro. Via. Dal mio retino. Eccolo. Va. Andiamo avanti. Comunque una scarica d'adrenalina, eh. perché la paura c'è. Mmm. Non sono così coraggiosa io. Uh, guardalo. Guardalo. Oh. Eccolo. Preso di nuovo. E siamo a quota cinque. 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 E non l'ho ucciso. Moccia, guarda come mi sfugge. Adesso l'ho ucciso però. Sì. Eccolo va. È rimasto attaccato qua. È rimasto attaccato qui. Sembra crudele. Ma... Va bene così. Va bene. Questa famiglia raccoglie così tanto polline. Che è impressionante. Ho visto prima una marea di apine col polline. Ecco, adesso ne ho anche una. Sì. Grazie. 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 Allora io vi premierò. Questa è arancione, giallo... Grazie. 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 eccolo no proprio lì proprio questa arnietta proprio questa arnietta no preso 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 devo ricomprarmi il retino che questo l'ho distrutto preso preso è morto è morto proprio questa la mia piccolina preso 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 ok preso oddio eccolo non so se si è ancora vivo no 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 lo scherziamo no no è vivo ok continuiamo vabbè andiamola ok 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 ok